foodglory.com trovate il link nella descrizione fateci un salto e buona visione bello a tutti ragazzi ben ritornati dal vostro gioco siamo tornati signori di nuovo su FIFA 17 siamo qua ragazzi prontissimi per andare a giocare oggi un po' di Food Champions quindi noi per il momento ragazzuoli ho questa squadra qui che mi sono andato a fare con Suarez Neymar Ronaldo Bale Toni Kroos Modric Piquet Ramos Godin Iniesta e De Gea in più abbiamo tutti questi altri giocatori quindi ragazzi una squadra veramente da far paura veramente ragazzi una squadra da far paura vediamo un attimino la appunto la squadra che ci pone l'avversario molto buona con William Martial Canterruni e tutti gli altri quindi facciamo molta attenzione vai si parte si parte ragazzi speriamo di vincere che ieri abbiamo perso e non mi è andata per niente giù che poi ragazzi come ho perso lasciamo perde cioè sempre al novantesimo ha fatto il terzo gol e stavamo due pari ma non ne parliamo non ne parliamo buonissima Ronaldo per Suarez ancora così per Bale Gareth madonna mia come se l'è cagato bella per Suarez bella così per Suarez 1-0 bella così Suarez buono ragazzi 1-0 buono mamma mia che missile che missile di Suarez porco un giro entrava quel pallone ragazzi mi sentivo male ma avete visto che bomba ha tirato mamma mia modrice ragazzi scusate intanto non parlo ma sto cercando un attimo anche di concentrarmi perché non mi ha chiamato il giocatore lì sta cosa non l'ho capita non mi ha chiamato il giocatore va bene dai a Neymar vai a sentire sta presenza di corsa vai a sentire sta presenza ah è lag addio che poi capisco quando lag il gioco te lo calcola dopo i mortacci su non può essere come i draft no ovviamente botta di lag e dover gol minaccia la miseria quanto l'odio il food champions quanto l'odio è una delle modalità più scriptate del mondo neanche solo di fifa del mondo è una modalità di merda i più forti più forti al mondo ma che cosa che qua vince chi cazzo c'ha la connessione migliore quindi io posso fare vincere su sto cazzo il food champions porca puttana poi quando calcoli il lag non puoi bloccarti il gioco di merda e calcoli tutto insieme e va tipo super veloce perché se io ho laggato poi quell'altro che va immediatamente velocissimo me rompe il culo no bella Suarez la chiesta la chiesta Suarez la chiesta Suarez e vaffanculo che bucio di cuore che c'avete che bucio che c'avete bello bello madonna che mi ha parato devo farti ragione dall'altra parte gli mortaggi di pippo cazzo cazzo guarda te guarda te ma che cazzo l'esalto hai fatto ma che è una parata quella te piasse in corpo te che ha te piasse in corpo dai calcio d'angolo dai niente ma quando mai a me mi entra un cazzo di pallone quando ma mi entra a me mi fanno peggio parate mi fanno ma dai ma da che stiamo a parlare ragazzi ma dai ma dai eh porca puttana ma da che stiamo a parlare qua te n'affanculo ti guarda questo manco esce il pallone mi sembra giusto mi sembra giusto mi sembra mamma mia mamma mia eh rigore almeno questo mo dai che tanto io i rigori capirai ne ho una bella esperienza che i rigori io ho una bellissima esperienza di rigori che insomma non manca a tirare oh strano palo goal comunque il pallo ho sempre preso minchia palo goal però mi ha pure indovinato l'auto ti dava questo lo strano che ho segnato raga sta cosa segnatela sul calendario questo è rosso ragazzi da come cammina questo è rosso eccolo infatti cortino rosso che piquet e vai e dai ci mancava quello bello piquet pure c'è stato ragazzi mi ha ammazzato il giocatore fatti la rune questo maledettissimo maledettissimo ce lo metto il giocatore ha fatto un salto che in me guarda che madonna mia raga ha fatto un salto immenso guardalo ma a me che stava solo se è liberato bene però poca troia che gliela che mi dice ma dalla deviata sto fa una fatica raga sto fa una fatica raga certo bella la rovesciata di ronaldo morco la presa di di alluce la presa ma dai non ne para una raga non è possibile non è possibile mamma mia che modalità di merda ma vattene vaffanculo a me non entra e a me non entra e a me non entra ti giuro che a me il full champion mi fa salire proprio le madonna raga non è possibile una modalità deve entrare è merda no altro che bello 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 danni pre cioè ragazzi stiamo a vedere cioè ragazzi stiamo vedendo stiamo vedendo ragazzi stiamo vedendo che gioco di merda stiamo vedendo che gioco di merda eh vaffanculo stiamo vedendo stiamo vedendo che gioco di merda vaffanculo 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 che gioco di merda che gioco di merda vaffanculo Ma fammi i colli Fammi quel cazzo Ma chi te sei in c***a Chi te sei in c***a FIFA Mai più ragazzi Non registrerò mai più il FUT Champions Ma neanche mi qualifico più Perché tanto è una merda È una merda proprio È quella che ci perdo tempo col FUT Champions La colpa mia La colpa mia Io ancora che ci perdo tempo col FUT Champions Fata al caso I draft e fa il gioco che è da Dio E le partite normali vi vinco tutte E il FUT Champions Ne perdo i peggior casi proprio Ho il nittiro e mi fanno un gol Ma da che c***o stiamo a parlare Tutte le palle che è 15-10 Ho fatto quante è lui raga Ho fatto quante è lui Questo è un nittiro e mi ha fatto un gol Ma dai ma da che c***o stiamo a parlare Eh facciamoci in altre partite raga Giusto vedere perché guarda Sono veramente Lasciamo perdere ragazzi Lasciamo perdere Cioè tanto ci danno di testare c***o Ma se tu che sei c***o non sei buono Ma padatta una affanculo Cioè dimmi se è una cosa normale Un'nittiro che mi faceva Il portiere la pigava E se buttava la palla dentro Ma da che c***o stiamo a parlare raga Eh Ma vabbè che vabbè raga Io ce sto a perdere Ce sto a perdere Ma bisogna di come c***o perdo È quello che mi metto a fa stio Dovete come c***o perdo Perché se io perdo Chi ce sta Sono il primo a metterlo Ma se devo perdere Che porco 2 Il gioco decide da fare Come cavolo vi pare Non ce sto per niente là Lì ma è c***o come una bestia Ragazzi Cioè Ma dove te concede Sta sfuriata Perché non è possibile Giù non parlo manco più Non commento guarda Lasciamo perdere proprio Eh ma Daglielo un altro rimpallo a loro Dai dai Daglielo un altro rimpallo Qual è il problema Forza forza Vai un altro rimpallo Vai Daglielo un altro Daglielo un altro Vai Daglielo un altro Ma qual è Su Beh Meno male Meno male Meno male In gol decente Grazie Grazie FIFA Strano che non ha presa Da scella al portiere Guarda Guarda Quale il giocatore Mi si è spostato avanti Da solo ragazzi Cioè io vi farei rivedere Il replay Di questa azione Che è il mio giocatore Ragazzi se ne è andato Guarda là Non so come Cioè guarda quanto ragga Sta fatta solo ragazzi Guarda Non la passa Ragazzi guarda Cioè Ma beh dai Non mi prende il giocatore No regà Dai Guardalo Guardalo ragazzi Oh Signore Oh via sta palla Te sei ripreso FIFA No regà No guarda Mi dico da una sotto Passa Guarda Non la passa Non la passa Oddio Oddio Guarda che lag Ragazzi No vabbè Non c'ho parole Caccio di rigore Io non stavo a fare niente Regà Pensate Stavo a guardare il pad Io non stavo a fare niente Pure il calcio di rigore Gli ha dato Dai Calcio di rigore Ti muo Regà Non mi si muove Cioè guarda quanto mi lagga a me Regà Sta facendo tutto da solo Sta facendo tutto da solo Sta facendo tutto Non mi butta neanche Non mi butta neanche Ma come posso Ma come faccio a giocare così Guarda Aspetta Vi faccio una prova Che so Che so io il coglione Passa Guarda Ecco L'ha passata adesso Passa indietro Ma neanche la passa Cos'è che c'è regà Che io mi fermo qua Neanche gioco Neanche gioco ragazzi Mi fermo qua Basta il video è finito Me ne frega un cazzo Guarda Faccio un po' direttamente così Vai Ritirati Perfetto Arrivederci Ciao Oggi No raga basta Finisco così Perché se no oggi Va a finire che spacco veramente qualcosa Quindi il video è finito ragazzi Mi dispiace Tanto arriveranno i ragazzi Ma non me ne frega proprio un cazzo Oggi è veramente assurdo Oggi ho visto di tutto e di più Questo FUS Champions Non lo porterò mai più sul canale FUS Champions Perché penso che A meno che non so Arrivano proprio a livelli Manca una partita per sopra ora Arrivano Che cazzo Dei modelli da cesta dopo Perché regà Non lo porterò mai più Perché se no io mi divento pazzo Mai fatto delle partite così Scriptate Così brutte su FIFA Veramente è bruttissimo Io ragazzi vi invito a lasciare comunque un like Se volete Passate la pagina Facebook Le mie Instagram A questo appuntamento Una merda ragazzi Una merda Lasciamo perdere che è meglio va